Prova di Wolfenstein 3D Versione 1.12 per Sega Master System Chi mi segue avrà già visto un bel po' di versioni precedenti Ma per chi non lo sapesse, questa è una homebrew per Sega Master System Volta a convertire il famoso Wolfenstein 3D su personal computer Non è ancora la versione definitiva, quindi questa è soltanto una prova E durante il secondo schema a un certo punto il video termina Le novità rispetto alla versione precedente sono Le porte che si trovano a metà strada tra i muri L'animazione di apertura della porta I nemici ora possono aprire le porte ed inseguirti Minore sfarfallio e una migliore animazione della pistola Tra le novità, non ho trovato scritto da nessuna parte che il gioco dovesse essere più fluido Invece a me è sembrato più fluido e veloce Magari sarà stata una mia impressione, però io ho avuto questa sensazione che è positiva Ovviamente rimangono tutte le novità delle versioni precedenti Come per esempio i graditissimi elementi di arredo E se volete scaricare questa versione In descrizione trovate il link ad un forum di SMS Power In cui troverete questa versione da scaricare ragazzi Vi auguro buona visione E se questo video vi è piaciuto Vi chiedo un like e un'iscrizione al mio canale Vi chiedo un'iscrizione al mio canale Vi chiedo un'iscrizione al mio canale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti